che usiamo qui presente anche il musico, c'è dunque se vuoi anche tu Francesca Pnelli magari portate un contenuto, ci faccio un piacere, prego Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio gli ospiti sì volevo dire che questo è un appuntamento annuale che richiama non solo i turisti nazionali ma anche quelli internazionali, infatti quando noi partecipiamo come consorzio di promozione alle fiere internazionali e mostriamo i video di questa bellissima saga del pesce io vorrei farvi vedere gli occhi delle persone come guardano i video di questi piatti unici e tipici piaggiotti sono cose che loro non hanno mai visto e quindi io invito tutti anche quelli che ci stanno guardando ora alla saga del pesce perché è un evento unico nel suo genere, unico gastronomico della città di Chioggia ringrazio tutti e buona giornata